Una amica, 42 anni, gruppo zero, ci scrive sono colpita da osteofitosi, un becco di artrosi su una cervicale. 42 anni, gruppo zero. Cosa devo mangiare, cosa non posso mangiare, cosa può fare la signora? Ne può fare tante di cose. Intanto bisogna sapere bene che cosa sta facendo lei, che cosa sta introducendo lei. Intanto, io che sarò appunto, sono un fanatico, ecco, sono un talebano riguardo alla connessione, alla relazione tra le patologie, le malattie e gli alimenti. Forse le metterò sul gradino più alto e c'è chi non li mette su nessun gradino però. E questo qua mi sembra strano, nel senso che quando non si arriva a capire la causa di un problema secondo me non si può escludere e non si deve escludere a priori che gli alimenti che noi introduciamo possano scatenare delle forme infiammatorie. I problemi della cervicale in genere dipendono dallo stato infiammatorio dello stomaco perché è lo stomaco che governa tutta la nostra parte alta, la parte alta della colonna, le spalle, i gomiti e fino ad arrivare i polsi. Pensate, quante persone hanno i problemi dell'epicondilite, il famoso gomito del tennista, che magari non fanno i tennisti, oppure come tanti tennisti che il problema dell'epicondilite non ce l'hanno nel braccio che usano ma ce l'hanno sul braccio opposto e quindi non è il tennis. E tante cose possono essere, ad esempio una persona di gruppo zero, se per caso dovesse usare del caffè, del caffè d'orzo, che forse è ancora peggio del caffè caffè, per non parlare poi del tè, figuriamoci, i problemi alla cervicale si ritrovano, senza contare però che questi osteofiti se li è creati con le sue abitudini alimentari dove sicuramente il latte derivato del latte centravano e come? Altro che se centravano. E però ci si può convivere bene con degli osteofiti, come pure con le spine calcaneari. La spina calcaneare è praticamente qualcosa, questa piccola forma ossea che va a formarsi e a crearsi nel calcane, che però ci si può convivere bene benissimo, fino a che non creiamo uno stato infiammatorio. Se per caso questa persona fosse appassionata di frutta e per caso soprattutto poi di arance e mandarine e mandaranci, ma il problema dei suoi osteofiti e della forma infiammatoria che la colpisce la cervicale non le lo toglie più nessuno. Quindi intanto se le persone cominciano a leggersi un po' con attenzione quello che c'è scritto su quel famoso libro con la copertina viola che oramai sono passati giusto appunto, sono sei anni perché era uscito nel marzo, era, mi ricordo, il 13 marzo del 2012. Quindi sono passati sei anni e tra l'altro fino alle prime settimane era nelle graduatorie dei tre dieci libri nel suo settore ancora più diffusi, tutte le graduatorie dei quattro giornali che trattano queste storie, Corriere, La Repubblica, La Stampa e Il Giornale. Quindi questa signora deve stare all'occhio, poi certamente i dolci e gli zuccheri, i dolci e gli zuccheri che sono tra le sostanze che possono causare forme infiammatorie incredibili, però una persona di gruppo zero con la frutta ci deve stare molto ma molto attenta e uno dei motivi per cui a livello sportivo adesso ci sono tanti, tantissimi, tantissimi atleti, dei vari sport che hanno questi problemi, che hanno problemi articolari, ossi, muscolari, è proprio perché hanno demonizzato, è stato demonizzato il comune zucchero bianco, ossia il comune saccarosio ricavato dalle barbabietole da zucchero e sono stati indirizzati verso l'uso del fruttosio. La storia è cominciata quando è uscito, ecco, sono usciti gli studi di Barry Sears, ecco, che è americano, che ha portato avanti le sue teorie della dieta zona, per cui ha cominciato a demonizzare il saccarosio e ha fatto in modo che invece venisse avanti l'uso del fruttosio, ma il fruttosio ha un potere, ha un potere infiammatorio decisamente superiore al fruttosio, al saccarosio. Poi dice, come fai a vederlo? E come faccio a dirlo? Lo faccio a dire perché lo vedo. Se ci sono persone di gruppo zero che magari gli permette di mangiare dei brutti e buoni, ecco, i famosi biscotti che io sponsorizzo abbastanza, perché, non perché io li produco, assolutamente li potete produrre tutti quanti, mandorle, un po' di zucchero e l'albume, basta, non c'è dentro niente, non ci sono dentro farine, non ci sono dentro burro, non ci sono dentro lieviti e tra quello e la frutta, secondo me, secondo la mia esperienza, non perché io sia possessore della verità assoluta, ma perché sono possessore di una buona esperienza, ecco, ho visto che sicuramente se la cavano meglio con quello rispetto al fruttosio. Tra le altre cose, diciamo questa, questa signora che ha i problemi di osteofiti, che si infiammano a livello della colonna cervicale, deve stare lontano, lontanissima dall'aceto, da tutti i tipi di aceto, e non solamente l'aceto di vino, di alcol, o l'aceto ricavato dal miele, o l'aceto ricavato da altre sostanze, perché l'aceto va bene, a parte le persone magari di gruppo B, che con l'aceto se la cavano, vedo che quando lo usano non hanno dei problemi, ma l'aceto è ottimo, è ottimo se dovete togliere del calcare, dei tegami, dei lavandini, dei rubinetti, fate la prova. E quello che succede, e quello che succede per togliere il calcare da questi strumenti, diciamo di cucina, da questi lavandini, ovvi dicendo, può succedere benissimo nel nostro organismo. Queste sostanze acide, per essere tamponate, per essere riportate nel giusto equilibrio acido-base, il nostro corpo ha bisogno di sostanze che possono appunto riequilibrare tutto quanto. Che cosa c'è che possa riequilibrare delle sostanze acide? C'è il calcio, c'è il calcio che è depositato nelle nostre miniere, che sono le ossa. E per cui se le persone, se le persone, ecco, di gruppo 0, ma anche per quanto riguarda l'aceto, anche le persone di gruppo A e anche le persone di gruppo AB, ecco, si mettono a usare dell'aceto facilmente, problemi, a parte che magari lo avvertono come problematica allo stomaco, come acidità e via dicendo, ma si trovano problemi sicuramente facilmente alla cervicale, facilmente alle spalle o ai gomiti.